Musica Buonasera, benvenuti al consulato appuntamento con l'informazione di Televomero. Città metropolitana si è votato, la maggioranza va agli arancioni della sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che ottengono 9 seggi, però non hanno la maggioranza assoluta. Il Partito Democratico ottiene 7 seggi, Forza Italia 5, è un seggio a testa invece per Noi Sud e Aria Popolare. Novità assoluta all'ingresso del Movimento 5 Stelle. Un discreto successo per la lista di Luigi De Magistris, che vince le elezioni per il rinnovo del Consiglio della città metropolitana di Napoli, ma con un problema in più, perché il sindaco non gode di una maggioranza in Consiglio. Cresce il consenso, però, attorno alla figura del sindaco di Napoli e della città metropolitana. La coalizione costruita intorno a lui ha infatti raccolto più di 35.000 voti, mentre nella precedente tornata si era attestata su 21.000 presenze. Visto che l'elezione è di secondo livello, il numero dei voti è scaturito dal caccolo dell'indice di ponderazione dei comuni dell'area metropolitana, che sono distinti per fascia demografica. Dunque hanno avuto un peso maggiore i voti di sindaci e consiglieri dei comuni demograficamente più grandi. A Napoli, infatti, il sindaco De Magistris ha raccolto 26 voti, che, moltiplicati per l'indice di ponderazione, diventano più di 21.000. 9 gli eletti della lista con De Magistris, David Lebro, Salvatore Pace, Francesco Iovino, Elena Coccia, Paola Tozzi, Carmine Sgambati, Elpidio Capasso, Marco Ponticello e Domenico Marrazzo. Il Partito Democratico, invece, ha eletto 7 consiglieri. Sono 5 gli eletti per Forza Italia. Un consigliere per Napoli Popolare, così come per noi Sud, e per il Movimento 5 Stelle, con Danilo Roberto Cascone, che fa il suo ingresso per la prima volta in città metropolitana. Era necessario avere una presenza all'interno di questa istituzione per abbaluardo della trasparenza e della legalità. Noi siamo entrati con l'obiettivo di cambiare questo sistema elettorale affinché i cittadini siano loro ad esprimersi. Siamo contrari a queste elezioni di secondo livello. Abbiamo provato, diciamo, in questi giorni quello che si proverà, probabilmente, se passerà il sì, per il voto futuro al Senato. Noi siamo per le istituzioni elette direttamente dai cittadini. Il corpo senza vita di una donna a 31 anni di nazionalità russa è stato ritrovato all'interno di una camera di albergo lungo la fascia costiera di Giuliano. Nel Napoletano, scattato l'allarme sul posto, sono giunti gli agenti del locale commissariato di polizia, coordinati dal primo dirigente Pasquale Trocino. Si sta procedendo all'esame autoptico. Potrebbe essere un overdose la causa della morte della donna. Il titolare di una gioielleria di Pastorano è stato ferito con un colpo di pistola al torace e sparato a due banditi che hanno messo a segno una rapina nel suo negozio. E caccia ai due banditi che ieri sera hanno rapinato un negozio di oggetti preziosi di Pastorano, in provincia di Caserta, afferendone il proprietario, 43 anni, con un colpo di pistola. I carabinieri di Capua, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capovettere, stanno cercando eventuali immagini all'esterno del negozio. I due malviventi provenivano forse dal napoletano. La moto usata per raggiungere Pastorano è emersa e è stata rubata a Giuliano nel 2010. I due hanno fatto eruzione nel negozio travestiti. Uno indossava il casco, l'altro una bandana sul viso. Nell'esercizio c'era anche un cliente, un agente della penitenziaria, che è stato preso in ostaggio durante il colpo. Dopo essersi fatti consegnare l'incasso e i preziosi, uno dei due banditi è subito uscito. L'altro malvivente si invece ha tardato qualche attimo ed è stato bloccato dall'agente. A quel punto il complice è tornato indietro per aiutare il compagno ed ha sparato un colpo che ha ferito il titolare del negozio al torace. I due sono poi fuggiti a piedi, lasciando sul posto la moto. L'esercente è stato ricoverato all'ospedale di Caserta in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Finisce a colpi di fucile, ma fortunatamente senza feriti. Una lite tra due fratelli scoppiata nel napoletano. L'episodio è successo a Caivano, dove uno dei due uomini, al culmine di una discussione nata a causa di dissidi relativi a terreni di loro proprietà, ha imbracciato una doppietta che custodiva abusivamente ed ha sparato tre volte. La vittima, per fortuna, è riuscita a ripararsi dietro a un moretto di cemento e non è stata colpita. Il tutto è successo nei giardini e retrostanti le loro abitazioni, tra loro confinanti. L'aggressore, che si chiama Salvatore Esposito, ha 70 anni, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri dagli accertamenti. Risulta che anni fa gli era stata ritirata la licenza a causa di una denuncia per minacce. Come gruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale è stata depositata un'interrogazione urgente diretta all'assessore alla mobilità e alle infrastrutture della sicurezza urbana per conoscere motivi che hanno spinto la Giunta Comunale a trasformare il parcheggio dell'azienda napoletana di mobilità di Via Argine in deposito giudiziario. Secondo il capo dell'opposizione al Consiglio Comunale, Valeria Valente, del Partito Democratico, si tratta di una decisione sbagliata da ogni punto di vista. Si priva in questo modo Ponticelli, uno dei quartieri più estesi e popolati in Napoli, dell'unico parcheggio per tutte le famiglie. Da lunedì il parcheggio di Via Argine chiuderà i battenti, fuori le auto dei cittadini, dentro i mezzi sequestrati dalle forze dell'ordine. Una decisione, quella della Giunta Comunale di Napoli, che non è andata giù ai residenti del quartiere di Napoli Est, che da giorni si battono per evitare che una struttura di utilità sociale venga destinata ad altro uso. La decisione del Comune nasce dopo la richiesta da parte del Prefetto di Napoli di individuare all'interno di tutto il territorio comunale un luogo adatto ad ospitare un deposito giudiziario. Attualmente il parcheggio di Via Argine è uno dei pochi servizi funzionanti sul territorio di Ponticelli. Il garage fu aperto con lo scopo di decongestionare il centro abitato e servire il vicino plesso scolastico e l'ospedale Villa Betania. Ai nostri microfoni abbiamo raccolto la rabbia dei cittadini. Noi della periferia abbiamo gli stessi diritti di coloro che abitano a Via Galaccio, l'Alvomere e a Posillipo. Le tasse le paghiamo anche noi, anche noi paghiamo le tasse, quindi abbiamo gli stessi diritti. Si toglie un servizio utile alla cittadinanza per creare un deposito giudiziario. Noi abbiamo fatto presente che comunque la richiesta della Prefettura era su tutto il territorio napoletano, chissà perché è stato scelto proprio la nostra, la sesta municipalità. Di recente questa municipalità di San Giovanni, Barra e Ponticelli, è stato soggetto a discarica di materiali di risulta delle lavorazioni di via marina. Oggi si vuole chiudere un garage, un servizio utile ai cittadini per fare un deposito giudiziario. Noi siamo qui per protestare e dire no contro la chiusura di questo garage. Viene penalizzato continuamente il cittadino di questi territori periferici ormai abbandonati e degradati, ormai dalla prima e adesso questa consigliatura. Siamo qui a rappresentare tutti i cittadini per difenderli da qualsiasi altra sceleratezza. Ci auguriamo che la Giunta Comunale faccia il proprio dovere e decide una volta per tutta di tutelare la periferia di Napoli. A causa dei disagi che da giorni stanno vivendo migliaia di pendolari per lo sciopero della Compagnia Trasporti Pubblici di Napoli, CTP, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha inviato una lettera al prefetto di Napoli, Pantalone, per sollecitare un suo intervento e al sindaco della città metropolitana Luigi De Magistris, proprietario dell'azienda di trasporto, 5 giorni di sciopero di dipendenti delle autolinee del CTP, hanno creato una situazione insostenibile per i pendolari. Turisti e boom a Napoli di presenza. Nonostante l'estate sia ormai finita, Napoli e la sua provincia continuano ad essere invase dai turisti e anche nell'ultimo fine settimana il capologo campano ha fatto registrare numeri da record sia per quanto riguarda l'affluenza nelle strutture ricettive, sia per quanto riguarda il traffico e il transito di passeggeri dallo scalo di Capodichino. Un momento d'oro per la città che dopo maggio dei monumenti sta vivendo un ottobre della cultura. Numerose le mostre e le iniziative in città, quello che però manca ancora sono le infrastrutture su tutti i trasporti interni, da tempo in crisi e la gestione e la valorizzazione dei siti archeologici di rilevo nazionale. In questi giorni l'aumento dei visitatori è stato a merito anche di due eventi molto importanti, futuro remoto e la riapertura della sezione egizia del MAN. Ma non vanno dimenticati i gioielli stanziali, i cittadini come il Cristo Velato, il Tesoro di San Gennaro, i Castelli, solo per citarne alcuni. Numeri da record che spingono i tour operator e le grandi compagnie aeree a puntare su Napoli. A tracciare un bilancio della stagione appena conclusa e di quella che sta per iniziare, Andreano Apicella, presidente di Welcome Travel Sud. Gli investimenti sono stati notevoli da parte di questi vettori. L'aeroporto di Napoli ha sicuramente investito moltissimo nell'arco degli ultimi 2-3 anni e la città è sicuramente molto più fruibile all'estero, tra le città d'arte e forse quella che sta crescendo di più nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno. Sono stati visitati da 230 mila persone in quattro giorni. Il stand di futuro remoto, la manifestazione dedicata alla scienza e alla tecnologia è andata in scena in piazza del plebiscito a Napoli. Siamo felici di questa scommessa vinta, ha commentato il consigliere delegato di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi. Vinta non dalla Città della Scienza, ma da tutta la città di Napoli, dalla regione Campania, un territorio che, contrariamente a quanto troppo spesso si pensa, sa rispondere con passione e curiosità a stimoli culturali. Lipardi ha voluto sottolineare che il futuro remoto rappresenta una scommessa anche sul piano della cooperazione istituzionale, oltre 550 soggetti tra centri di ricerca, istituzioni pubbliche, associazioni, sette università della Campania. Le compagnie aeree investono sul Napoli, ci credono. Tolosa, Prevesa, Lefkada, Zante e Catania. Sono queste le nuove rotte inaugurate questa mattina da Volotea, la compagnia Locost, che collega le città di tutta Europa, operativo in Italia dall'aprile 2012 e che nel 2016 ha raggiunto 7 milioni di passeggeri trasportati a livello internazionale. Per il 2017 la compagnia conferma l'interesse per la città di Napoli, facendo salire così a 17 le destinazioni raggiungibili dall'aeroporto di Capodichino da Volotea. Un ventaglio di proposte sempre più ricco e variegato, dunque, grazie alle novità proposte nel corso di una conferenza che si è tenuta a Napoli, in cui l'aeroporto gestito da GESAC ha annunciato le nuove rotte, sette in Italia, quattro in Francia e sei in Grecia. In aggiunta alle nuove rotte, Volotea ha deciso di supportare anche il traffico domestico. Durante la prossima estate, infatti, verranno incrementate le frequenze e la stagionalità dei voli per Cagliari. Il collegamento per Genova sarà spesso disponibile due volte al giorno e il collegamento con Verona diventa giornaliero già dai mesi invernali. Alla presentazione delle rotte Volotea 2017 è intervenuto a Valeria Rebasti, manager d'Italia Volotea. Ci tengo a dire che tutte le rotte, le tre rotte già in vendita da oggi, sono in promozione con tariffe a partire da un euro a tratta, tasse aeroportuali incluse, fino a domenica, quindi consiglio a tutti di affrettarsi a visitare il nostro sito. Presente anche Margherita Chiaramonte, responsabile sviluppo network dell'aeroporto di Napoli. Quattro nuove tratte che portano Volotea a servire i 17 destinazioni di lena dal nostro aeroporto. Questo vuol dire che in soli tre anni loro annunciano per l'estate 2017 un network di 17 destinazioni che vuol dire che sono diventati il secondo vettore di linea in termini di destinazioni di linea servite. Di queste, sette sono destinazioni nazionali e in questi termini loro addirittura sono il primo vettore, cioè la prima compagnia in termini di numero di destinazioni domestiche offerte da Napoli. Smaltimento irregolare di rifiuti prodotti durante le opere di restauro di manufatti, abbattimento di barriere architettoniche nell'area archeologica di Punta Campanella, nel comune di Massa Lubrenza, scatta il sequestro preventivo sui conti correnti di una società nel napoletano operante nel settore delle costruzioni dili per circa 90 mila euro a eseguirlo. Il comando provinciale di Napoli del Corpo Forestale, il provvedimento, è stato emesso da giudice per le indagini preliminari della Tribunale di Torne annunziata. Si intitola Sanità di Frontiera, il progetto di formazione degli operatori sanitari di tutta Europa in servizio al Centro di Identificazione ed Espulsione di Lampedusa, presentato questa mattina a Napoli. 449 i medici di Napoli e delle altre province della Campania che prenderanno parte al progetto, finanziato con 18 milioni di euro. All'impegno dei camici bianchi sarà dedicata questa giornata, rivolta allo scambio di modelli e strumenti di intervento innovativi per garantire la salute dei profughi che arrivano nel continente dopo aver attraversato il mare con imbarcazioni di fortuna. Intervenuto è il medico simbolo dell'isola di Lampedusa, Pietro Bartolo. Sono felice di essere entrato a far parte dell'OIS ovviamente perché mi dà la possibilità di portare la mia esperienza sulle patologie che noi riscontriamo sui migranti e sono delle patologie che comunque non devono fare spaventare nessuno ma è bene che ci sia una formazione da parte dei medici che vengono ad operare sia a Lampedusa ma anche in altri posti dove si trovano in contatto con i migranti in modo da dare delle risposte sicuramente positive, delle risposte immediate perché noi assistiamo ad alcune patologie come abbiamo detto che bisogna affrontarle in un certo modo con un certo grado di formazione. Quindi per esempio la scabbia di cui se ne parla tanto che è una patologia alla fine che si cura facilmente ma se non è approcciata nel modo giusto ovviamente crea questa alone o questa immagine di una patologia gravissima. Noi la affrontiamo serenamente, la curiamo da anni, da sempre e quindi è importante che i medici debbano essere formati anche in questo senso e quindi non avere preoccupazione a affrontare queste patologie che riscontriamo sugli immigrati. Avevano trasformato alcune aiuole in recinti per custodire i propri cani. Tre persone, alcune delle quali già denunciate in passato, sono state denunciate dalla Polizia per maltrattamento di animali, invasione di terreni o edifici. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti nel primo pomeriggio insieme al personale dell'Asl Napoli 1 in via Serio all'angolo con via Toscana nella zona Mercato. Qui sulle aiuole erano stati realizzati abusivamente quattro recinti che ospitavano cinque canili. Cordiale incontro a Palazzo San Giacomo tra il sindaco di Napoli Luigi De Maggis si è Giobbe Covatta in questi giorni a Napoli per il trentesimo anniversario della Fondazione dei Verdi, secondo quanto riferisce una nota di Palazzo San Giacomo. Trent'anni di battaglie ambientaliste festeggiate con una torta con lo storico simbolo, il sole che ride. I Verdi della campagna si sono ritrovati questa mattina in un noto caffè del centro di Napoli per celebrare i sei lustri della fondazione del partito. Presente il portavoce nazionale Giobbe Covatta, che si è soffermato sulle difficoltà di sensibilizzare i cittadini sulle battaglie e le tematiche ambientaliste. Ma guarda, io credo che sia questa la cosa fondamentale. Io faccio quello che faccio, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista del mio mestiere, dello spettacolo. Non tanto perché penso che la mia posizione possa essere, o le mie opinioni possano essere esaustive nei confronti di un problema, ma perché la gente in qualche maniera si incuriosisce di quel problema. Capito? Allora dice, ma fammi vedere se Covatta è una strunzata, è una cosa giusta. Fammi vedere se Covatta sta in qualche maniera aprendo un piccolo spiraglio che se però io poi non vado ad aprire, quello spiraglio rimane uno spiraglio, ma dietro magari c'è un'intera realtà che io posso scoprire. Ecco, allora la curiosità, la sensibilità delle persone nei confronti di un argomento, quello è il mio scopo. Con il consigliere regionale della campagna, Francesco Borrelli, abbiamo fatto il punto sulle principali battaglie condotte a livello locale dai Verdi. L'istituzione dei parchi regionali e nazionali, il parco del Vesuvio, per fare un esempio, è stato il primo parco in Italia ottenuto dai Verdi. Oppure per far partire la raccolta differenziata, quando ne parlavamo noi, tanti anni fa ci ridevano a presto, c'erano le discariche all'epoca. O anche la difesa dei prodotti tipici, a un certo punto abbiamo avuto l'invasione, il tentativo di invasione di OGM o di altri prodotti, e noi invece abbiamo difeso con i denti i nostri prodotti dal San Marzano o anche addirittura dalla pizza, la pizza napoletana, difesa dai Verdi che si tentava di agropiratare in tutto il mondo. E poi il lavoro legato al turismo e alla difesa del nostro territorio. La vela accessibile ai disabili sarà possibile anche a Napoli. Abbattere le barriere architettoniche partendo dal mare, velentariato è il nome del progetto presentato questa mattina a Napoli nella sezione velica della Marina Militare e che prevede l'avvio di corsi di vela per disabili. Finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il patrocinio del Comune, l'iniziativa vede in prima fila l'associazione People, presieduta dai Leana Esposito. Servono anche molti sostegni da parte della società, degli enti pubblici e privati, perché chiaramente il progetto ministeriale, che si chiama appunto velantariato, finanzia soprattutto la velaterapia, una piccola parte di agonismo. Quindi là dobbiamo continuare a autosostenerci e spero che attraverso campagne di crowdfunding e di fundraising potremo avere il supporto per portare avanti questi piccoli grandi campioni con bisogni speciali fino alle prossime Olimpiadi. Quindi cerchiamo sponsor per adottare, come diciamo noi, allievi speciali durante tutto il loro percorso di istruzione e di allenamento. Presente all'incontro anche l'ammiraglio Raffaele Caruso, comandante logistico della Marina Militare, da anni impegnata in progetti con finalità sociali. Le nostre strade e quella della Peppul si sono incontrate per forza di cose. La Peppul è da tempo alla ricerca di spazi e di accessi al mare dove poter esercitare la propria attività qui nel porto di Napoli. La Marina da tempo impiega le proprie strutture anche per usi prettamente sociali. Primo fatto degli esempi delle attività che noi svolgiamo qui anche con le Ollus nella nostra base navale, questo percorso si è ulteriormente arricchito con l'accordo che abbiamo fatto con la Peppul. Sostanzialmente noi abbiamo dato la possibilità da Peppul di realizzare alcune infrastrutture che permettono l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti. Cioè un ascensore, delle rampe mobili e delle rampe di accesso ai pontili per consentire agli atleti diversamente abili l'accesso al mare e quindi per dare loro la possibilità di fare attività velica qui al centro di Napoli. Bene, è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni. Vi ricordo l'email cui potete scrivere per ogni vostra segnalazione a redazione chiocciolatelevomero.it Arrivederci. Grazie a tutti.